L'applicazione per il telefonino che permette di prenotare il giorno e l'ora per i prelievi del sangue è ora disponibile anche per l'ospedale di Arco. Il cittadino potrà prenotarsi online sul sito abss.tn.it alla voce Prenota i prelievi del sangue e presentarsi nel giorno e nell'ora stabiliti allo sportello Accettazione del punto prelievi dell'ospedale di Arco con la stampa o la visualizzazione su smartphone o tablet dell'email di conferma della prenotazione. Il tempo medio di permanenza in sala d'attesa del punto prelievi ad Arco per chi è in possesso di prenotazione è di circa 7 minuti. Un bel passo avanti rispetto alle lunghe attese che si fanno normalmente.